ciao a tutti e benvenuti ancora una volta un saluto speciale a tutti voi amici ascoltatori di italiano in podcast un saluto speciale perché oggi è la vigilia di natale questo episodio non è quello di venerdì ma è un episodio che registro a metà sabato più o meno quindi benvenuti all'episodio della vigilia di natale la puntata numero 606 di sabato 24 dicembre 2022 perché sabato beh perché prima di tutto mi sembrava giusto farvi anche gli auguri prima del natale quindi un giorno prima del natale ma anche perché ieri venerdì è stato un giorno molto molto lungo un po faticoso e alla fine non avevo davvero l'energia per registrare questo nuovo episodio ho deciso quindi di rimandare la registrazione di questa puntata proprio al giorno della vigilia e quindi oggi vi racconterò semplicemente qualcosa di ieri della giornata di venerdì e poi questo famoso ultimo giorno a verona per la vacanza prima del natale quindi una puntata molto semplice semplicemente per salutarci per farvi gli auguri prima di il prossimo episodio che ci sarà martedì 27 dicembre spero una puntata breve senza spero non troppo lunga ecco come come le ultime perché davvero voglio che voi possiate fare un buon esercizio di ascolto di comprensione ma senza togliere tempo al vostro natale alle vostre vacanze e alla vostra famiglia anche quindi un breve episodio di italiano in podcast solo per mantenere allenato il vostro italiano anche durante le feste anche tra una fetta di panettone e una di pandoro bene quindi come vi dicevo venerdì ieri è stata una giornata davvero molto piena non ho avuto quasi nessun momento di riposo anche se la festa era sempre più vicina in realtà è stato un giorno molto pieno e pieno di lavoro ecco mi sono svegliato presto come sempre fatto le prime cose in casa ho tolto qualche piccolo impegno dalla lista soprattutto alla mia scrivania ecco scritto qualche mail preparato alcune cose insomma ho cercato di togliere alcuni alcune piccole cose perché avevo una mattina e un pomeriggio impegnato per cose della vita normale per cose delle feste che si fanno durante le feste e infatti sono uscito per fare alcune compere per fare le ultime spese anche qualche piccolo regalino per alcuni vicini e anche per andare a trovare qualche amico e fargli gli auguri di persona sono uscito con la mia bicicletta infatti per raggiungere una la città vicina e fare un saluto a un paio di persone in particolare a un mio amico che non vedevo da molto abbiamo fatto un po di chiacchiere parlato un po degli ultimi tempi non ci siamo visti spesso abbiamo ci siamo raccontati un po i nostri viaggi e ci siamo divertiti un po con la promessa di vederci di più durante il prossimo anno perché questo lungo periodo di covid e di tanti impegni non ci ha permesso di incontrarci spesso come in passato la vita di molti di noi molti dei miei amici è anche un po cambiata ma l'idea quando parlo con loro è che il 2023 deve essere un anno più sociale con più incontri come come nel passato ecco ci dobbiamo vedere di più basta stare a casa basta incontrarsi ogni tanto è ora di ritornare a vedersi più spesso e passare più tempo insieme durante questa uscita ho dovuto anche comprare questa è una cosa brutta che ho fatto ma quest'anno andata così ero molto in ritardo con le luci di natale quindi questa è una cosa che piace a mio padre piaceva a mio padre scusate e anche piace adesso a mia madre quindi ogni anno cerco di mettere un po di luci fuori la casa di mia madre ma quest'anno era in ritardo infatti non è stata contenta anche quando ieri ho sistemato un po il suo balcone con alcune luci nuove perché l'ho fatto il 23 dicembre quindi poco prima della del natale e questa è una è una mia grave mancanza però venerdì ci sono riuscito comprato queste luci ho fatto un po di giri perché era tutto finito ovviamente tutti avevano già addobbato la loro casa e spesso non ho trovato quelle cose che cercavo che di solito metto metto sempre comunque alla fine ci sono riuscito sono rientrato a casa breve spuntino per il pranzo e poi è passato il pomeriggio la prima parte del pomeriggio a sistemare queste luci e ho fatto anche un po un giro del di alcuni nelle case di alcuni vicini per consegnare questi piccoli doni da parte mia e da parte di mia madre prima del natale l'ho fatto venerdì 23 cioè ieri perché oggi queste persone sono andate via per raggiungere i loro parenti in altre città e passare insieme a loro la vigilia del natale e anche il natale quindi ho fatto questi piccoli doni un po prima del solito non non oggi di solito faccio questo giro il 24 dicembre ma questa volta l'ho anticipato un po e poi dopo questo tutte queste cose ho iniziato a lavorare il 23 venerdì ieri ho fatto ben cinque lezioni fino alla sera molto tardi è stata una buona occasione per fare gli auguri a cinque dei miei amici che aiuto con l'italiano ma è finita molto tardi la giornata ed ero molto molto stanco quindi sono andato a letto esausto e non ho fatto non ho neanche pensato a provare a fare il podcast avevo già deciso nelle ore prima di rimandare questo a oggi ad adesso il pomeriggio un po tardi del 24 dicembre anche per fare gli auguri a tutti voi un po più vicino al natale questa mattina poi mi sono svegliato con un po più di calma ho anche fatto colazione con calma ancora i piccoli acquisti perché ci sono alcune cose che bisogna ordinare prima del natale anche le cose più semplici come il pane per non rischiare di rimanere senza quindi queste cose si ordinano pane la mozzarella e altre cose come queste più fresche e poi si ritirano il 24 dicembre come ogni anno da molto tempo ho anche fatto mandare dei dolci alle gentilissime commesse del mio supermercato che sono come come dire come altre tre mamme no perché hanno praticamente la mia età a volte anche più giovani ma sono davvero molto gentili con me mi danno sempre i buoni consigli mi danno sempre delle cose di grande qualità buone quindi ogni anno a natale mando a loro dei dolci sono davvero fantastiche gentilissime e davvero rendono tutto più facile quando devo fare la spesa quindi mi sembra giusto offrirle offrire a loro una piccola pausa per il caffè con un dolce beh dopo queste piccole ultime piccole spese sono rientrato e ho fatto anche alcune lezioni una al mattino una al pomeriggio presto e in mezzo a una bella passeggiata vicino all'ora di pranzo che è stato molto leggero perché poi questa sera mangerò un po di più a cena devo ancora fare la cena non so ancora se c'è uno dei miei fratelli ma probabilmente saremo in tre io mia madre e mio fratello questo succede quasi sempre a natale perché mia madre è anziana molto anziana e la sera non ama molto uscire soprattutto andare a cena per una cena lunga è faticoso per lei e non è più non è più possibile faremo una piccola cena in casa che non finirà troppo tardi e poi come sempre lei guarderà qualche programma di natale prima di farci gli auguri e andare a dormire ma questo ancora deve accadere quindi per il momento siamo fermi a un pomeriggio ancora di lavoro oggi ho fatto come ho detto una lezione nel pomeriggio ma anche le ultime cose per i spicchi italiano ho dato un aspetto più natalizio al blog e ai miei social niente di troppo difficile ma ancora un po di lavoro e adesso eccomi qui per registrare questo ultimo podcast prima di natale e raccontarvi anche come è andata questa domenica a verona ho scritto qualche appunto questo è un foglio perché ho avuto paura di dimenticare no assolutamente è stata una bella domenica il tempo era bello avevamo ancora del tempo da passare a verona l'unica cosa brutta è che doveva partire e ovviamente ci dovevamo separare ancora una volta e soprattutto senza sapere bene quando ci rivedremo ancora anche se questo ovviamente avverrà certamente beh una vacanza quando finisce una vacanza è sempre un po un po triste anche se c'è ancora del tempo da passare in quel giorno nel tempo da impegnare a fare cose interessanti però l'idea di dover ritornare di dover ripartire non è mai piacevole ma io oggi ci siamo goduti una bella domenica insieme ovviamente mi sono svegliato per primo questo è sempre così e sono sceso molto attento a non fare rumore sono uscito di casa e sono andato a comprare delle cose per fare colazione soprattutto questa famosa girella con l'uvetta e la crema che al j piace tanto e quando sono rientrato a casa abbiamo fatto questa bella colazione insieme l'ultima colazione a verona questa volta con un cappuccino perché questa è stata la richiesta anche un cappuccino ci siamo vestiti e preparati un po più in fretta perché era l'ultimo l'ultimo giorno quindi volevamo fare ancora un paio di cose come per esempio visitare l'arena perché non lo avevamo fatto sabato e abbiamo abbiamo deciso di farlo domenica ma quando siamo scesi quando siamo scesi in piazza in realtà anche prima perché io mi ero accorto di questo mentre compravo la colazione abbiamo assistito prima un altro evento perché in questa domenica c'è stata a verona questa corsa di babbi natale una piccola gara ma per divertimento e per beneficenza perché si raccoglievano fondi per teleton teleton è una manifestazione che si fa in questo periodo dell'anno che raccoglie fondi per moltissime organizzazioni soprattutto nel mondo della ricerca scientifica per la medicina quindi in questo periodo ci sono tanti eventi in televisione e anche nelle città per raccogliere dei soldi da dare alla ricerca contro malattie molto molto pericolose e anche molto difficili da curare quindi questa corsa di babbi natale che aveva due percorsi possibili uno da cinque chilometri e uno da dieci ma ovviamente non era una competizione era semplicemente un modo per passare del tempo insieme nella città in allegria era pieno di bambini di adulti con questo vestito da babbo natale era davvero molto divertente guardare questa piazza piena di babbi natale pronti a partire per fare questa simpatica corsa nelle strade del centro della città e quindi io e Jay ci siamo molto divertiti ad osservare questo spettacolo abbiamo fatto dei video insomma è stato un momento molto allegro e molto piacevole e poi quando sono partiti abbiamo guardato un po questa sfilata di tanti babbi natale qualcuno un po più serio qualcuno molto divertente insomma davvero un evento per far sorridere un po tutti e abbiamo sorriso anche noi ho fatto dei bruttissimi video e delle bruttissime foto perché ho scoperto che ormai ho scoperto ormai che il mio telefono davvero fa schifo a fare fotografie video questa è una cosa che non va bene devo trovare una soluzione perché quando viaggio devo fare delle buone foto per per voi e per tutte le persone che frequentano il blog devo imparare anche a farlo meglio perché Jay mi prende in giro ma non ho una mano molto stabile quando faccio dei video e delle foto quindi devo cercare di migliorare la mia tecnica ma nonostante tutto sono riuscito comunque a fare un bel video ed è stato divertente perché a un certo punto il presentatore dell'evento aveva fatto un conto alla rovescia ma quando è arrivato a 4 prima della partenza è andata via l'energia elettrica e non solo non c'era più audio e musica ma anche questi enormi palloni gonfiabili che c'erano all'arrivo alla partenza si sono sgonfiati sulla folla è stato un momento molto divertente ma dopo qualche dopo qualche minuto è tornata l'energia elettrica ed è partita questa questa gara così simpatica come una sfilata infatti qualcuno camminava e qualcuno addirittura aveva bambini in braccio insomma era qualcosa di molto simpatico c'erano anche delle cheerleader che ballavano davanti alla partenza della gara insomma davvero un momento molto molto bello per la città dopo questa simpatica questo simpatico inizio di giornata siamo andati a visitare l'arena siamo entrati non è stata una visita molto lunga non avevamo molto tempo anche lì abbiamo fatto qualche foto e dei video ma l'ideale forse sarebbe tornare per guardare un concerto o uno spettacolo in questo luogo davvero molto molto bello ma direi la parola più giusta in italiano sarebbe evocativo insomma un luogo anzi perdonatemi suggestivo scusate quando c'è un evento soprattutto di sera un concerto uno spettacolo questo luogo davvero diventa davvero magico e non ho mai assistito a questo dal vivo sempre visto dei video ho guardato in televisione qualche evento ma penso che in futuro questo è una delle cose che voglio fare insomma assistere forse un concerto all'interno dell'arena finito il nostro giro era ora di rientrare a casa per fare i nostri bagagli perché dovevamo lasciare l'appartamento a mezzogiorno e con molta poca voglia lo abbiamo fatto anche se è stato un po' divertente perché abbiamo pensato tutti e due che forse potevamo anche restare un po' di più abbiamo preparato i nostri bagagli e poi ci siamo un po' rilassati magari per uscire un po' più tardi di mezzogiorno con un po' di calma ma a mezzogiorno meno dieci c'era fuori la porta jay ha sentito i rumori c'era fuori la porta la signora che doveva pulire l'appartamento che praticamente ci ha dato quasi lo sfratto cioè era quasi un avviso di sfratto le abbiamo chiesto solo qualche minuto ancora e siamo andati via esattamente a mezzogiorno lasciare questa casa è stato molto triste per me perché probabilmente è stata dire è la casa più bella che abbiamo avuto nelle nostre vacanze di quest'anno un posto davvero molto molto bello e credo proprio che ci torneremo perché si è davvero una casa perfetta per qualche giorno in questa città fantastica che è verona quindi a mezzogiorno eravamo in mezzo una strada in mezzo una piazza in realtà piazza bra abbiamo ciondolato qua e là quindi abbiamo fatto ancora un po' una passeggiata ci siamo fermati a prendere un caffè un po' di chiacchiere ancora un giro e poi io ho sentito il mio amico francesco siamo rimasti d'accordo di vederci nel pomeriggio prima della mia partenza non per molto tempo perché lui purtroppo aveva degli impegni con la sua famiglia e quindi non ci siamo potuti vedere per lungo tempo ma ci siamo messi d'accordo di vederci alla stazione prima della mia partenza e tra l'altro durante la partita anche ma comunque prima di andare di andare in stazione io oggi abbiamo fatto un piccolo spuntino all'hard rock caffè che c'è proprio in piazza bra nel centro di verona in mezzo a tutti questi bar e ristoranti nella piazza c'è anche un hard rock caffè ci siamo fermati lì ho mangiato una cosa buonissima dei gamberi fritti molto speziati una cosa fantastica cioè come sempre un insalatona e un bicchiere di prosecco per chiudere questa questo fine settimana molto piacevole a verona ci siamo rilassati al sole abbiamo mangiato bevuto un po e poi con molta poca voglia ci siamo inviati a prendere l'autobus per andare in stazione più o meno verso le due le due e trenta forse sì le due e trenta siamo arrivati proprio quando è arrivato è arrivata la navetta dj per l'aeroporto ci siamo separati quindi poco prima delle tre ovviamente questo è stato ancora più triste siamo abituati a questo quindi sappiamo che ci rivedremo quindi non è non è stato troppo terribile abbiamo preso strade diverse io sono rimasto in stazione e jay ha preso la direzione dell'aeroporto sulla sua navetta il pomeriggio poi è andato avanti così avevo un treno più o meno alle 6 meno 10 quindi un paio di ore circa da passare ancora a verona e l'ho fatto sì sono restato in stazione ci sono alcuni posti dove si può stare ma poi mi è raggiunto il mio amico francesco e abbiamo passato una mezz'ora insieme abbiamo chiacchierato un po del più e del meno di questo fine settimana e siamo rimasti d'accordo di vederci all'inizio dell'anno dell'anno nuovo quando lui tornerà nella sua città vicino a casa mia per trovare i suoi parenti la sua famiglia e noi probabilmente usciremo insieme una o due sere come facciamo sempre ogni volta ci siamo lasciati dopo gli ho dato anche un piccolo pensiero per i suoi bambini e poi sono rimasto solo di nuovo solo in stazione ad aspettare il mio treno in tutto questo ho potuto vedere poco la partita l'ho vista un po sul telefono non completamente quindi ho visto solo alcune parti ma ho capito che si trattava di una partita molto intensa e molto bella credo che rivedrò quella partita con più calma tutta quanta intera ma quella domenica l'ho vista solo a piccole parti e con un po di frustrazione anche sul treno che ho preso lungo il viaggio di ritorno perché la connessione internet ovviamente su un treno non è perfetta e quindi mi sono dovuto accontentare di guardare quelle parti che sono riuscito a guardare nello scompartimento sul vagone era divertente perché tutti provavamo a guardare la partita ma tutti avevamo lo stesso problema questa pagina che si caricava sempre e ci regalava solo pochi minuti senza interruzioni e quando c'è stato il terzo gol di messi nel secondo tempo supplementare sembrava ormai finita ma poi all'improvviso una signora ha detto no 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 hanno pareggiato è arrivato il terzo gol della francia e tutti quanti abbiamo cominciato ad ascoltare il suo telefono per seguire ancora la partita anche rigori purtroppo non sono riuscito a vederli sono riuscito solo a sapere il risultato finale ho visto solo il primo rigore della francia ma ho perso tutti gli altri quindi con un po di calma voglio rivedere la partita perché è chiaro è stato chiaro insomma che è stata si è trattato di una partita molto intensa e sicuramente degna di una finale mondiale ancora una volta faccio i complimenti a tutte e due le squadre e ovviamente sono felice per gli argentini e dispiaciuto per i francesi non è vero perché avrei voluto l'italia al mondiale campione del mondo sto scherzando ovviamente io sono sempre molto sportivo sono contento per gli argentini per tutti gli amici argentini mariano e tutti gli altri vi saluto ancora una volta e mi dispiace ovviamente per la francia ma l'ho già detto altra volta la francia è una grande squadra quindi è stato semplicemente una una piccola sconfitta perché è arrivata ai rigori per me queste partite in realtà sono pari le due squadre sono alla pari perché i rigori assomigliano molto a una lotteria e quindi non c'è da essere troppo dispiaciuti quando si perde i rigori anche se il vincitore resta solamente uno questo il pomeriggio poi sono arrivato più o meno alle 9 di sera a Roma Termini stazione Roma Termini ho dovuto aspettare un treno alle 10 insomma per farvela breve sono arrivato un po' distrutto dopo la mezzanotte a casa mia con le sole energie per andare a letto e non fare nient'altro pensate che è stato più semplice per Jay tornare a casa che per me quindi nonostante un aereo e il viaggio dall'aeroporto a casa l'arrivo è stato più facile per Jay che per me ma comunque sono arrivato sano e salvo e ho potuto riposare tranquillamente tutta la notte questa la fine del mio viaggio a Verona non vedo l'ora di raccontarvi il prossimo viaggio che spero possa essere presto certamente nell'anno nuovo non prima dell'anno nuovo anche perché manca ormai solo una settimana alla fine di questo quindi spero che però io possa presto viaggiare ancora e incontrare Jay in una città nuova anche questa volta aggiungo solo che si è trattato di un fine settimana certamente e purtroppo breve ma intenso con tante belle emozioni e tanti bei ricordi da riportare a casa e conservare gelosamente così si dice in attesa di fare altri nuovi e bei ricordi nelle prossime nei prossimi viaggi bene quindi non ho nient'altro da aggiungere per questo per questo viaggio a Verona voglio a questo punto semplicemente lasciarvi con con i miei auguri di Natale voglio augurarvi queste di passare questi giorni con le persone che vi sono care le persone che amate cui volete bene voglio augurarvi dei giorni sereni voglio augurarvi di avere davvero delle giornate piacevoli senza preoccupazioni solo con il piacere di stare con la vostra famiglia con le con i vostri cari come si dice in italiano questo è l'augurio di paolo e di aspic italiano prima di lasciarvi una notizia un po divertente per quelli che sono appassionati di cose italiane vi dico che il sessantacinquesimo zecchino d'oro è stato vinto dalla canzone il panda con le ali quindi andatela ad ascoltare se siete appassionati dello zecchino d'oro e andate anche a rileggere il mio articolo su questa importante manifestazione che si svolge ormai da 65 anni non può mancare ovviamente una aforisma anche per augurarvi un buon natale ho scelto una parte un pezzo di una poesia di aldamerini una poetessa italiana molto importante non so se ho già citato questa poesia ma mi piace questa parte voglio regalarvela anche per questo natale e scusate se l'ho già fatto ma è davvero una frase che mi piace molto la la frase celebre di oggi di aldamerini è questa a natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno a tutti loro auguro di vivere un natale in compagnia mi sembra un bel augurio mi sembra davvero una cosa importante questa perché a volte è vero è un periodo di festa da trascorrere con le persone che amiamo quindi auguro anch'io a tutte le persone che si sentono un po sole di avere qualcuno con cui passare questi giorni in allegria e con piacere non c'è molto altro da aggiungere se non che vi faccio di nuovo gli auguri ma voglio anche fare un ringraziamento ancora una volta a tutti quelli che seguono italiano in podcast e i speak italiano voglio ringraziare tutti voi perché siete voi che mi date l'energia e la voglia di andare avanti con questo progetto voglio ringraziare anche tutti quelli che supportano ai speak italiano e sui progetti gli ultimi due per fare solo due nomi sono stati luiz e anche lotta quindi ringrazio loro in modo simbolico ma ringrazio tutti quelli che mi hanno inviato dei caffè che si sono abbonati al mio podcast italiano in podcast oppure che sono diventati amici di aspec italiano su buy me a coffee a tutti loro a tutti voi dico grazie ringrazio anche quelli che lo faranno in futuro ma certamente siete tutti importantissimi per portare avanti questo progetto senza dubbi e senza esitazioni quindi a tutto il pubblico di italiano in podcast e di i speak italiano io auguro un felice natale un felice e sereno soprattutto natale continuate a seguirmi anche nei prossimi giorni perdonatemi se qualche volta è un po meno interessante spero di fare un buon lavoro e di aiutarvi con il vostro italiano per migliorare la vostra capacità di parlare questa bella lingua che è la mia lingua e con questa bella lingua vi ricordo che domani il giorno di natale pubblicherò il terzo episodio speciale di italiano in podcast che sarà il primo episodio di prova il primo episodio di allenamento la prima volta che ho registrato un podcast in vita mia quindi domani per tutti gli abbonati per tutti gli iscritti su spotify su anchor a italiano in podcast e anche per tutte le persone che mi seguono invece su buymeacoffee che sono amici di i speak italiano su buymeacoffee domani pubblicherò questo episodio speciale in cui potrete ascoltare paolo che fa un podcast per la prima volta bene lasciatemi dire ancora una volta per l'ultima volta ve lo prometto tanti auguri buon natale felice natale a voi alle vostre famiglie cercate di passarlo in compagnia cercate di essere buoni di non mangiare troppo questo è un po difficile soprattutto in italia quindi ci rivediamo quando cominciano le diete fra qualche giorno anzi ci risentiamo fra qualche giorno ma in italia in realtà le diete cominciano dopo il 6 gennaio ma già dopo natale cerchiamo di stare meno a tavola ok basta 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 tanti auguri e ancora una volta io vi saluto e ciao a tutti grazie a tutti